incidenti e le ambulanze soccorrono feriti a pesaro e a urbino miralfiore da presidiare ora c'è pure la protezione civile si cerca relitto sommerso a largo del san bartolo baiocchi e ser filippi nuovi presidenti di commissione regionale cento volte grazie l'avis premia i suoi donatori storici buona serata benvenuti oggi è martedì 8 novembre apriamo quest'edizione parlando di due incidenti che sono avvenuti nel nostro territorio particolarmente preoccupante quello avvenuto questa mattina alle ore 9 a urbino in via guido d'arezzo non lontano dall'ospedale una donna incinta è stata travolta da un'auto sulle strisce pedonali e ha rimediato un trauma cranico la cui gravità ha indotto il 118 intervenuto ad allertare l'eliambulanza che ha soccorso la donna trasportandola al torrette di ancona il conducente dell'auto ha dichiarato di non avere visto la donna attraversare la strada un altro incidente con feriti avvenuto attorno alle 7 30 sempre di questa mattina ma in questo caso a pesaro in zona santa veneranda dove due auto si sono scontrate frontalmente per una mancata precedenza all'incrocio fra strada ponte della valle e strada di valle tre sole l'urto ha finito per coinvolgere anche il muro di un'abitazione che risulta danneggiato dallo scontro quattro i feriti due dei quali sono stati soccorsi anche dall'intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto estrarli dalle lamiere coinvolte una onda logo guidata da una quarantenne di pesaro e una ford fiesta con a bordo tre giovani mombaroccesi un 19 anni alla guida accompagnato da due ragazze di 14 anni ad avere la peggio una delle due quattordicenni per la quale è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza che l'ha trasportata al torrette dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata gli altri tre passeggeri feriti più lievemente sono stati trasferiti al pronto soccorso di pesaro ed ora cambiamo argomento ci spostiamo al parco miralfiore dove prosegue il ripetersi di episodi di criminalità ma allo stesso tempo continuano anche i controlli delle forze dell'ordine e da lunedì ci sarà un presidio fisso della protezione civile continua ad essere delicatissima la situazione al parco miralfiore dove proseguono gli episodi di spaccio gli arresti e gli inseguimenti l'ultimo dei quali nei giorni scorsi è sconfinato fino alle proprietà private di via cimarosa è il caso di due ragazzi di colore in fuga da un controllo della guardia di finanza giovanissimi che sono penetrati nel giardino di un appartamento un 49enne residente se li ritrovati di colpo ed è stato pure colpito a un fianco quando si è frapposto a loro per il timore che penetrassero in casa insomma c'è un allarme criminalità che sconfina pure fuori dal parco dove i controlli sono pressoché quotidiani e dove da lunedì ci sarà pure la protezione civile che creerà un distaccamento della sua attività negli spazi del bar sera degli agrumi che rimarrà chiuso per il periodo invernale l'assessore ci ha chiamato dicendoci cioè informandoci delle problematiche che possono venire fuori perché due o tre mesi dovrebbe stare chiuso per il discorso che d'inverno è poco frequentato il bar allora ci ha detto se noi diamo una mano a tenere aperto in qualche modo facciamo un presidio una sede di staccati in qualche modo facciamo un po di attività qui per fare in modo che il parco viva e c'è sempre qualcuno questo è la finalità è quella per tenere il parco vivo ma anche per presidiare il parco a vedere che insomma qui c'è un po di attività non adesso ci sono i ragazzi del cec che ci vengono da una mano per quanto concerne tutta la piattubazione e quelle cose lì noi faremo le nostre attività di protezione civile utilizzando magari i locali per quello che è far vedere che il parco è vivo il parco c'è gente c'è presenza di continuo una presenza che si allargerà anche agli orari serali tre quattro persone poi c'è a rotazione ovviamente saremo qui il mattino un poveriggio anche la sera dopo cena magari faremo degli ingotri noi facciamo anche dei corsi periodici potremmo fare i corsi qui utilizzando questi locali per fare in modo che ci sia sempre qualcuno sul territorio ed ora passiamo alla cronaca perché è finita in tribunale una litte fra condomini di montelabbate degenerata in invettive a sfondo razziale è stata infatti denunciata una coppia di sessantenni che a causa di un presunto eccessivo baccano avrebbe riempito di insulti razzisti e lanciato banane a due bambini vicini di casa figli di una pesarese e di un senegalese il gesto ha portato la madre alla denuncia supportata da testimonianze di altri vicini di casa imputati che a processo hanno negato le accuse ma il procedimento va avanti e la madre dei bambini ha già inoltrato richiesta di 5 mila euro di risarcimento danni attraverso una nota stampa i sindacati a tutela del personale di polizia penitenziaria del carcere di villa fastigi denunciano nuovamente la mancanza di tutele di fronte alle continue aggressioni e minacce che i poliziotti ricevono da parte dei detenuti le organizzazioni hanno deciso di interrompere le relazioni sindacali con la direzione pesarese e decretano lo stato di agitazione che si protrarrà fino a quando l'amministrazione regionale e centrale non procederà all'avvicendamento dell'attuale direttore e comandante del carcere di pesaro richiesta che i sindacati hanno formalizzato anche con una nota inviata al ministero della giustizia nelle acque a largo del san bartolo la guardia costiera di pesaro è impegnata da alcune settimane in un'operazione molto particolare la ricerca del relitto di un aereo che risulterebbe inabissato sul nostro fondale durante la seconda guerra mondiale un argomento che abbiamo approfondito in questo prossimo servizio da un paio di settimane la guardia costiera di pesaro ha interdetto lo spazio di navigazione a largo delle acque del san bartolo nella zona prospicente la falesia dei monti castellaro e brisighella fra santa marina alta e fiorenzuola di focara il motivo dell'ordinanza è alquanto singolare sui fondali infatti potrebbero esserci tracce di un relitto d'aereo precipitato durante la seconda guerra mondiale si tratta di una segnalazione arrivata due mesi fa alla capitaneria di porto di pesaro dalla sovrintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacco di taranto che ha invitato al divieto di navigazione un divieto che serve a consentire le ispezioni preliminari che si stanno effettuando a circa 350 metri dalla costa con immersioni coordinate da una squadra che comprende capitaneria marina militare e sovrintendenza si sta cercando di comprendere il luogo in cui il velivolo si sarebbe inabissato e dove attualmente risulterebbe totalmente sommerso dal fondale sabbioso noi stiamo approfondendo alcune informazioni che abbiamo ricevuto con la sovrintendenza con il nucleo dei carabinieri e con la marina militare col consubin per puntualizzare alcuni aspetti abbiamo ricevuto questo input ma ovviamente stiamo verificando effettivamente tutto quanto ci è stato detto quindi sono state fatte delle immersioni specifiche e poi continueranno ancora nei prossimi giorni e la capitaneria di porto ha emanato un'ordinanza interdizione ai fini di sicurezza della navigazione e a salvaguardia della vita umana in mare. Ed ora passiamo alla politica durante il consiglio regionale di oggi consiglieri della provincia di Pesaro e Urbino Nicola Baiocchi e Luca Serfilippi sono stati nominati nuovi presidenti delle commissioni sulla sanità e sul governo del territorio nomine di prestigio e responsabilità che i due consiglieri hanno commentato così all'uscita dall'assemblea. Due consiglieri regionali appartenenti alla provincia di Pesaro Urbino come il fanese della Lega Luca Serfilippi e il pesarese di Fratelli d'Italia Nicola Baiocchi sono stati nominati oggi dal consiglio regionale delle Marche come nuovi presidenti delle commissioni governo del territorio e sanità. Serfilippi succede ad Andrea Maria Antonini recentemente promosso ad assessore regionale mentre Baiocchi succede ad Elena Leonardi che invece è stata eletta in Senato. Sono onorato di questo nuovo incarico, un incarico sicuramente molto complesso ma sono ben consapevole di quello che ci aspetta, abbiamo approvato poco tempo fa in commissione la riforma dell'organizzazione e adesso ci aspetterà il nuovo piano sociosanitario, prendo le redini dell'ex presidente della senatrice Elena Leonardi, sono molto felice anche dei consigli che mi ha dato ma ancora per scaramanzia chiaramente non avevo detto assolutamente nulla, ci aspetta un cammino molto importante ma sono certo che con la collaborazione di tutti i consiglieri sia di maggioranza che di minoranza potremmo fare sicuramente un ottimo lavoro, io penso che il comparto medico, il comparto della sanità ha bisogno di essere assolutamente ascoltato, ci sono tante cose da migliorare, da correggere, l'intenzione e l'ottimo rapporto che mi lega anche all'assessore della sanità Filippo Saltamartini, sono certo che questo mi porterà a dare un contributo, dare una mano a migliorare le cose veramente con l'aiuto di tutti. Sicuramente è un incarico importante per la quale ringrazio i colleghi della maggioranza e il mio partito che mi ha disegnato come presidente, innanzitutto la nuova legge urbanistica che presto approderà in commissione, la giunta penso che approverà molto brevemente, abbiamo importanti sfide come commissione, appunto dalla legge urbanistica al piano delle infrastrutture, due punti programmatici rallentati dalla pandemia che dovremo immediatamente il prima possibile approvare come consiglio regionale. Ed ora cambiamo argomento, sabato 12 novembre nella sede della prefettura, l'Avis provinciale premierà 134 cittadini che hanno raggiunto almeno 100 donazioni negli ultimi 4 anni. Il valore di questo appuntamento ci viene illustrato dal presidente provinciale dell'Avis, Herman Graziano. La settima edizione di questo premio assume un particolare valore, lo assume perché siamo all'uscita della pandemia e questi ultimi 4 anni è un premio, un riconoscimento che viene dato a tutti i donatori che hanno raggiunto almeno 100 donazioni negli ultimi 4 anni. Sabato, questo sabato 12 novembre alle ore 10 saranno presenti tutti i donatori quindi con oltre 100 donazioni, le loro, quindi all'interno del loro territorio il presidente dell'Avis comunale ma anche il sindaco che insieme premieranno con questa edizione, questa restyling del premio che è stato fatto che vuole raccontare non solo il simbolo associativo ma anche diciamo questa G che diventa una goccia e ringrazia quindi questo grazie che vuole così sigillare nel tempo questa grande capacità di essere a sostegno della vita, di essere a sostegno della solidarietà umana che oggi sempre di più è difficile. Difficile perché? Perché i nostri centri trasfusionali sono messi in grande difficoltà, mancano i medici, però la grande carenza di medici che nella nostra provincia si vive in maniera più drammatica rispetto alle altre province della regione. Avere due medici trasfusionisti per ognuno dei trasfusionali della nostra provincia di certo non ci rasserena perché questo mette in difficoltà tutte le uscite sul territorio ma oltretutto mette in difficoltà anche quelli che sono tutti i servizi collegati all'ospedale con i quali effettivamente serve il sangue e non solo il sangue ma anche tutto il plasma e i plasmoderivati, cioè farmaci salvavita che vengono fatti con il plasma che viene donato, il nostro, quello sicuro, quello che le marche danno come seconda e migliore qualità in tutta Italia. È un premio. Vuole ricordare e sottolineare come questo momento, questo periodo di pandemia abbia sicuramente coinvolto e segnato insomma tutti noi, però le donazioni sono sempre rimaste piene, sono sempre rimaste con un grande spirito di solidarietà perché all'interno di Tughelle che sono tutte le Avis del territorio questi dati sono sempre stati grosso modo confermati. Ci sono state solo delle leggere flessioni in qualche Avis però possiamo dire che in questo periodo la nostra provincia ha avuto solo una flessione di quasi circa 500 donazioni che può sembrare tanto ma se pensiamo alle 37 comunali coinvolti vediamo che in realtà il dato non è così spaventoso. Ed ora vi mostriamo alcune foto inviate da Enrica Gorgoroni che è la vicepresidente di piattaforma Solidale, associazione che tutela i diritti dei disabili in provincia. Foto che mostrano esempi di diversi ostacoli a Pesaro per chi è in sedia a rotelle. Innanzitutto le transenne nella zona dello stadio Benelli costantemente posizionate sui marciapiedi rendendoli inutilizzabili per i disabili. Un'altra situazione davanti al chioschetto del bar di fronte all'ingresso dell'ospedale dove uno scivolo realizzato di recente è esageratamente ripido per le carrozzine. Lavori appena fatti ma che peggiorano la situazione come sotto il cavalcaferrovia dove la recente asfaltatura ha creato un gradino mentre prima c'era un'omogeneità fra strada e marciapiede. Secondo piattaforma Solidale sono solo alcuni esempi di decine di problematiche analoge in città sulle quali l'associazione chiede al comune un tavolo di confronto. Passiamo ora ad Adria Bus che segnala come venerdì 11 novembre ci sarà uno sciopero degli autobus dalle ore 11 alle ore 15. Sciopero a livello nazionale che si basa su motivazioni legate alla tutela dei salari, alla sicurezza dei lavoratori e alle carenze di organico. Adria Bus rassicura che saranno garantiti i servizi minimi per le persone disabili ma che per quattro ore potrebbe non essere garantito il regolare flusso delle corse. Domenica 13 novembre la 57esima fiera del tartufo bianco di Acqualagna assegnerà a Giancarlo Selci fondatore di BS Group il premio Enrico Mattei città di Acqualagna, l'uomo l'imprenditore. Selci sarà premiato in qualità di imprenditore delle marche che ha saputo distinguersi proiettando l'azienda ad una dimensione internazionale. La cerimonia si terrà domenica alle ore 11 al Teatro Conti di Acqualagna. Un altro teatro invece è quello di Via dell'Acquedotto a Pesaro è pronto ad alzare il sipario sabato sulla ventitresima stagione teatrale della compagnia La Piccola Ribalta. Vediamo programma e novità che ci vengono illustrate dal presidente Mario Cipollini. Sono 11 appuntamenti, 11 spettacoli, 11 proposte e tra queste abbiamo naturalmente un'offerta piuttosto articolata. Andiamo dalla riproposizione di spettacoli già allestiti negli anni precedenti sia in lingua italiana che in commedie dialettali pesaresi, ma abbiamo anche una ricca offerta di nuove proposte. Sono debutti, ne sono previsti addirittura 5 nell'arco di tutta la stagione che va da novembre fino a metà aprile, quindi copre tutto l'arco dell'inverno. Tra queste produzioni segnaliamo alcuni titoli abbastanza significativi, ci sono commedie in dialetto pesarese, ci sono anche due nuovi, due spettacoli in lingua napoletana, perché da qualche anno abbiamo anche questo tipo di teatro. E lo spettacolo che apre, la stagione il 12 di novembre, è proprio uno spettacolo in lingua napoletana. Il titolo, spero di pronunciarlo correttamente, è Che sa da fa pe campà di Domenico Canzano e Massimo Canzano, che sono gli autori. La regia è dello stesso Domenico Canzano. Undici appuntamenti, ma poi c'è neanche un dodicesimo. Sì, c'è in verità un fuori programma, che peraltro sarà subito dopo il fine settimana di inizio. Quando debutteremo, andrà in scena uno spettacolo dal titolo Il gioco più bello del mondo, che è un adattamento di Valentina Luca per la regia di Bisergenga, ed è tratto dal romanzo polifonico L'ultima vita di Paolo Pagnini. Essendo una stagione così lunga e con tanti spettacoli in cartellone, naturalmente abbiamo anche un numero di soci coinvolti in questa manifestazione che è per noi assolutamente rilevante. Parliamo di circa una sessantina, almeno una sessantina di persone, tra attori, attrici, registi, tecnici. Poi tutti i soci che poi contemporaneamente si occupano anche dei servizi, perché in piccola ribalta siamo autonomi sotto tutti i punti di vista e quindi l'organizzazione prevede anche presidio di botteghino, servizio di maschere e quant'altro. Insomma, uno sforzo, a nostro avviso, abbastanza imponente per una piccola associazione. Si chiama Allo Stadio con classe, il progetto che la VIS porterà nelle scuole del territorio per educare i più giovani ad un tifo nel segno della correttezza, del rispetto e della sportività. Progetto che partirà ufficialmente giovedì in prefettura con un evento d'apertura alla presenza, tra gli altri, del CT della Nazionale Roberto Mancini. Lo sport e la scuola sembrano a primo impatto viaggiare su due mondi paralleli, ma in realtà vedono entrambi nell'insegnamento e nell'educazione le principali finalità. Valori che saranno rafforzati dal progetto che la VIS PESER ha proposto alle scuole superiori della città. Allo stadio con classe nasce infatti dall'esigenza di promuovere sia una cultura sportiva che pone al centro l'etica dello sport, che quella di educare i ragazzi di oggi a rappresentare una nuova figura del tifoso, nel rispetto degli avversari e dei valori umani e sportivi. Un'esperienza formativa dettata da un ciclo di incontri nelle scuole del territorio che vedrà la luce nei primi tre mesi del 2023, per una durata complessiva di tre anni. Consiste in lezioni che condivideremo con dei personaggi importanti del mondo dello sport, del calcio in particolare, con dei professori che renderanno con noi delle lezioni che si svolgeranno all'interno delle scuole medie e superiori. Alla fine del corso gli studenti dovranno scrivere un elaborato di massimo 2000 battute che verrà giudicato da una commissione, che premierà i 10 migliori con un abbonamento omaggio per assistere alle partite casalinghe della Vispesaro per la prossima stagione. Tutti i ragazzi che parteciperanno a questa iniziativa potranno entrare allo stadio con un prezzo veramente più che agevolato, più che simbolico e la laurea virtuale della Università di Urbino, quindi laureati in tifo, in campioni di educazione e di fair play. Un'idea orientata non solo alla teoria ma anche alla pratica, perché quei valori che durante le lezioni i professori esterni cercheranno di trasmettere agli alunni dovranno essere portati anche sul campo. Gli istituti partecipanti potranno infatti iscriversi con una propria squadra ad un torneo organizzato dalla Vis, dove il risultato finale non sarà decretato solamente da chi segnerà una rete in più dell'avversario. Soprattutto conterà come punteggio finale i valori che sapranno far vedere nel campo i ragazzi che parteciperanno in termini di fair play e di buona educazione. Il progetto verrà ufficialmente presentato giovedì 10 novembre alle 11 al Palazzo della Prefettura di Pesaro, alla presenza del prefetto Ricciardi e di ospiti dal calibro importante, come il CT della Nazionale di Calcio Roberto Mancini, il presidente della Vis Pesaro Mauro Bosco, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli e la storica penna della Gazzetta dello Sport Luigi Garlando. Siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale, ma attenzione, ve ne abbiamo già parlato, ma torniamo a farlo perché la prossima settimana partirà su Rossini TV un nuovo programma che si chiama Ci inviti a cena. I conduttori sono Paolo Pagnini e Nicoletta Tagliabracci che entreranno nelle case dei cittadini, dei comuni della provincia di Pesaro Urbino per conoscere le tradizioni culinarie della vostra cucina, della cucina dei cittadini. Quindi la prima serata è alle ore 21.20 per mercoledì 16 novembre. Ma attenzione, potete partecipare anche voi e quindi se volete partecipare alla trasmissione, volete invitare a cena a casa vostra i nostri conduttori e riceverete in omaggio tanti premi perché chiaramente Nicoletta e Paolo non verranno da voi a mani vuote ma con dei premi molto prestigiosi, contattateci, verremo a casa vostra e conosceremo le vostre tradizioni culinarie, il piatto magari che vi cucinava sempre vostra nonna oppure una ricetta tipica della vostra famiglia. Ed ora andiamo invece a raccontare cosa ci sarà questa sera su Rossini TV. Questa sera vi racconteremo le bellissime iniziative, l'importanza della fondazione Onlus Noi domani diventiamo grandi in collaborazione con la Labirinto e soprattutto tutto quello che potete fare per un Natale all'insegna della solidarietà, delle donazioni per questa importante fondazione che è veramente molto molto forte, ha bisogno chiaramente del vostro aiuto. Quindi seguite alle 21.20 il nostro speciale. Domani torno alla rassegna stampa quindi vi aspetto alle 7.20 in diretta su Canale 80 e su Facebook e in chiusura vi ricordo anche di scaricare gratuitamente la nostra applicazione perché insomma è molto utile, avrete la possibilità di vedere i vostri programmi e tutto quello che concerne Rossini TV grazie al vostro smartphone attraverso il vostro smartphone quindi potete vedere la nostra programmazione anche quando siete fuori casa. E adesso per voi c'è il meteo, grazie per essere stati con noi, buona serata.